Orietta Berti saluta il GF VIP, sono stata Fabio tanti anni, tornerò da lui. Orietta Berti ha rilasciato un'intervista a Repubblica in cui ha parlato dei suoi prossimi progetti di lavoro. Da tempo circolano dei gossip in merito ad un eventuale addio dell'artista al grande fratello VIP7. A quanto pare non si tratta di una fake news, la 79enne di Cavriago ha confidato che il prossimo anno tornerà da Fabio Fazio. Visto che per anni è stata seduta al tavolo di Che Tempo Che Fa. Alfonso Signorini ha voluto fortemente Orietta Berti nel ruolo di opinionista al fianco di Sonia Bruganelli al grande fratello VIP7. A settembre, i rumor parlavano di un contratto in esclusiva per l'artista per i prossimi due anni. A quanto pare Berti non è riuscita ad entrare a pieno nel ruolo di commentatrice di un reality show. Sul suo futuro la 79enne in un'intervista ha affermato, sono stata con Fabio tanti anni. Tornerò da lui. Nel frattempo, la cantante tornerà ai rai per promuovere il suo cofanetto, a tal proposito. Ha spiegato che in questo mediaset le ha dato molta libertà. Nonostante l'addio al reality show di Canale 5. Berti ha speso parole al miele per Alfonso Signorini, mi trovo bene, è buono. Religioso, andiamo d'accordo. La diretta interessata ha riferito che dietro le quinte del programma si respira un'atmosfera di festa. Il rapporto con Sonia Bruganelli anche è ottimo, siamo amiche, ridiamo. Durante la messa in onda del Festival di Sanremo, Orietta Berti non potrà andare al Teatro Ariston poiché l'azienda di Cologno Monzese ha deciso di non interrompere la programmazione. Orietta ha confidato che il lunedì e il giovedì sarà nello studio per commentare le dinamiche del grande fratello Vip. Ma le altre serate seguirà la Kermesca Nord. Su Amadeus, Berti crede che abbia fatto un ottimo lavoro, accontenta tutti e fa bene. Nell'intervista a Orietta Berti ha confidato che vorrebbe lavorare con Fabio Rovazzi. La cantante ha rivelato che nutre una grandissima stima per i collega, tanto da trovarlo un ragazzo modernissimo. Gentile, educato con dei modi di fare da altri tempi, rispetta tutti. La 79enne è consapevole che Rovazzi ha molti impegni, ma è sicura che prima o poi i due riusciranno a fare un duetto insieme. Prima di concludere il giornalista ha chiesto a Berti cosa pensa del percorso di Iva Zanicchia ballando con le stelle. La diretta interessata ha rivelato di aver trovato la collega molto simpatica, anche grazie alle barzellette raccontate. In merito all'esperienza nel dance show di Millie Carlucci, Orietta Berti ha spiegato che non parteciperebbe mai più a causa dello stress fisico, avevo i sandali con le striscioline di pelli. I piedi mi sanguinavano. Giravo in pantofole. Mafia, parasiții, dragonu, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, shuapo, grasul, nimeni altul, delvede sau carbo. Trăi să vă mănânc vers cu vers card intens, trăi să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă barc cu boss-ul, la câte urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul. Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la 1000 de grade Celsius să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie unul.